un'azione straordinaria del tgb andiamo subito la linea sempre al nostro mitico ed igno direttamente eccoci qua tgb qui con tb tommaso detto tommy timi timi allora lei si chiama jessica 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 sei tu jessica sei proprio tu si sono io passato il remoto di splendere 38 aiuto la regia la regia la regia splendessima come splendessimo 23 io ho spesi tu splendetti egli spese noi splendemmo vuoi splendessi spesero bravo tommy ok quanti dinosauri c'erano nel film di jurassic park ok la citazione latina che sotto intende il passaggio di mani da una persona all'altra passus manus si è giusto si tommy si quanti articoli ha la costituzione italiana 38 mia mamma ha quattro figli attos porto sarà missa come si chiama il quarto quarto in che anno ci fu la peste la grande peste 38 2006 il verso dell'animale che preferisci perfetto qual è l'animale che si riproduce più spesso tra i mammiferi in cui si è giusto bene no azzanzaro 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 Grazie per aver guardato il video!